Benvenuti a questa lezione che riguarda le configurazioni relazionali, i punti di percezione e i soggetti del discorso. Continuiamo in questa lezione la discussione e l'analisi delle configurazioni relazionali dell'esperienza mediale e affrontiamo in particolare la questione del rapporto che noi instauriamo con i punti di percezione e con i soggetti del discorso. Vedremo dapprima la questione delle relazioni con i punti di percezione, poi esamineremo le relazioni con i soggetti del discorso per vedere poi infine un esempio di analisi. Partiamo allora dalla questione delle relazioni con i punti di percezione. Ricordiamo anzitutto che noi possiamo parlare a proposito dell'audiovisivo di punti di percezione perché una svolta culturale fondamentale di cui ancora oggi risentiamo è quella che interviene a partire dal 1400 e poi in maniera sempre più intensa nei secoli successivi con l'invenzione della prospettiva. In questa incisione di Albert Dürer che si chiama appunto prospettiva, noi vediamo come la costruzione in prospettiva di un'immagine era anzitutto legata ad una serie di macchine. Inoltre queste macchine facevano sì che l'immagine finale ottenuta attraverso questi procedimenti. L'immagine finale riferisse di due cose in maniera esplicita di una certa porzione di mondo e in maniera implicita di un soggetto responsabile della percezione visiva di questa porzione di mondo collocato in un preciso punto spaziale. E' proprio questo che consentiva allo spettatore di adottare eventualmente quello stesso punto spaziale. Questo procedimento era stato poi, sempre nel corso del Cinquecento, per così dire automatizzato con un tipo specifico di macchina, di dispositivo, che è la camera oscura, per esempio in questa incisione di Rainer Genma Frisius del 1544. La camera oscura consentiva di proiettare un'immagine per quanto rovesciata in una camera appunto chiusa, l'immagine proveniente dall'esterno, e questa immagine poi veniva ricalcata, per così dire, dal pittore. Si trattava, e si tratta tuttora, di un procedimento che mima sostanzialmente il modo in cui le immagini si proiettano, si costruiscono sulla retina dell'occhio umano e soprattutto, per quello che ci interessa, si tratta del dispositivo che è all'origine della fotografia, della macchina fotografica e quindi anche della macchina cinematografica. In altri termini, quel punto di vista che abbiamo visto costruito all'interno dell'immagine prospettica viene incorporato all'interno della camera oscura e dunque si ritrova all'interno delle immagini fotografiche prima e cinematografiche dopo. Richiamo subito la natura, diciamo così, ambigua, ambivalente di questo soggetto. Questo soggetto è al tempo stesso un soggetto umano o pseudo umano, ma è anche una macchina responsabile della produzione dell'immagine. Possiamo dunque qualificare il soggetto della percezione, il punto di percezione del mondo indiretto, in base ad una serie di opposizioni che ci aiutano a comprendere di quale tipo di soggetto stiamo parlando. Anzitutto abbiamo un'opposizione tra un soggetto meccanico, a volte, anzi molto spesso, ciò che appare sullo schermo è percepito come collegato alla presenza e alla operatività di una macchina da presa, di una camera e dunque di una macchina. D'altra parte però, qualche volta, questo soggetto responsabile della percezione del mondo indiretto assume le valenze di un corpo, di un corpo vivente, di un corpo espressivo. Pensiamo a tutto l'utilizzo che si fa sempre di più, peraltro, delle camere a mano, di un punto di vista soggettivo molto dinamico, anche della stedicam. Tutto questo fa sì che il punto di vista, il punto di percezione, possa anche assumere delle valenze umane, soggettive. D'altra parte, questo soggetto implicito del mondo indiretto può possedere un duplice tipo di relazione con i soggetti invece espliciti del mondo indiretto, cioè con i personaggi. Da un lato ci può essere una relazione solo monodirezionale, cioè il soggetto vede senza essere visto, percepisce e ascolta, senza essere percepito e senza essere ascoltato. Dunque, rimane sostanzialmente escluso rispetto al mondo indiretto. In altri casi, invece, la relazione è bidirezionale, cioè i personaggi, i soggetti espliciti, riconoscono la presenza dei punti di vista e di ascolto e li considerano come loro veri e propri partner all'interno del mondo indiretto. Possiamo allora, partendo da questo aspetto, determinare quattro grandi soluzioni possibili. Una prima soluzione è quella che chiameremo del soggetto oggettivo sottoposto ad una esclusione radicale dal mondo indiretto, cioè troviamo una macchina da presa, una macchina, quindi una camera, che vede, che inquadra, ma che non viene riconosciuta come parte del mondo indiretto. I personaggi non si rivolgono, cioè esplicitamente, alla camera. Si tratta della soluzione tipica del cinema classico, l'inquadratura oggettiva, il nobody's shock, tipico di uno stile classico che esalta una certa trasparenza del mezzo cinematografico e più in generale del mezzo audiovisivo. Una seconda soluzione è quella che chiameremo del soggetto scritturale sottoposto a esclusione moderata dal mondo indiretto. Il soggetto scritturale si presenta ogni volta che abbiamo delle camere a mano o delle stedicams molto attive, molto presenti, che esprimono in maniera diretta e immediata uno stato, per esempio, di concitazione di un soggetto che sta osservando, però questo soggetto non viene riconosciuto come tale da parte dei personaggi e dunque rimane di nuovo escluso, però esprimendo un andamento soggettivo. Dunque esprime sostanzialmente un momento di scrittura dell'audiovisivo, esprime una partecipazione del punto di percezione alla vicenda senza che questo implichi un effettivo coinvolgimento come personaggio. Le cose cambiano invece nel quadrante inferiore del nostro schema perché in questo caso invece il punto o i punti di percezione vengono riconosciuti come parte del mondo indiretto. Anzitutto abbiamo il soggetto strumento sottoposto ad una inclusione moderata nel mondo indiretto. Il soggetto strumento lo ritroviamo quando abbiamo dei casi di macchina, di macchina collegata eventualmente a un corpo umano, ma che rimane appunto una macchina da presa. Pensate a tutti quei casi di film reportage in cui abbiamo una presenza dell'operatore all'interno del mondo indiretto, presenza dell'operatore che si manifesta molto spesso attraverso una camera a mano, qualche volta una stedicam, ma pensiamo anche a come questo procedimento è stato poi ripreso, amplificato in certo cinema dell'orrore in cui i personaggi affrontano vicende terribili e spaventose, portando una macchina da presa in maniera tale che quello che lo spettatore vede è un cosiddetto found footage, è un tipo di riprese che sono state ritrovate anche dopo la morte più o meno cruenta dell'operatore. Un ultimo caso è quello del soggetto soggettivo in cui abbiamo una inclusione radicale. In questo caso il soggetto che percepisce quello che avviene nel mondo indiretto ne è anche pienamente parte, è riconosciuto cioè come un personaggio. Abbiamo il tipico caso della soggettiva, del punto di vista soggettivo, che in molti casi nel cinema recente diventa quello che si chiama il point of view shot, cioè una soggettiva prolungata che si ritrova in maniera molto esplicita nei videogiochi, soprattutto nei cosiddetti videogiochi in prima persona. Però è un tipo di ripresa, uno stile di ripresa che è entrato molto anche in larghe sequenze del cinema contemporaneo. A partire da questa possibilità di percepire, di cogliere la presenza di quel particolare tipo di soggetto che è il punto di percezione e dalla possibilità di collocarlo rispetto al mondo indiretto, scatta una nuova possibilità che è quello di comprendere il soggetto della percezione del mondo indiretto. La comprensione segue percorsi diversi a seconda che si tratti di soggetti meccanici o di soggetti umani. Nel caso dei soggetti meccanici gioca infatti soprattutto quello che chiamiamo un meccanismo di inferenza, di ragionamento, cioè osservando il montaggio dei diversi piani noi possiamo inferire una certa intenzionalità facendo riferimento ad una teoria della mente. È l'ambito più razionale del rapporto con i punti di percezione. Per esempio ci rendiamo conto che il soggetto della percezione passa da un'inquadratura complessiva di un certo ambiente, quello che si chiama tecnicamente un establishing shot, un'inquadratura che stabilisce il complesso di uno spazio a portare la nostra attenzione su dei dettagli, su dei particolari più importanti. Dunque individuiamo una certa intenzionalità del soggetto della percezione senza che questo però coinvolga invece gli aspetti più emozionali. Invece gli aspetti più emozionali sono coinvolti nel caso della comprensione dei soggetti umani, perché in tutti questi casi giocano piuttosto meccanismi di consonanza e dunque entra in gioco una simulazione incorporata, secondo quanto abbiamo già introdotto nella lezione precedente. In questi casi, infatti, a partire dall'immagine, lo spettatore risale al tipo di movimento che il soggetto sta svolgendo all'interno del mondo indiretto e dalla qualità del movimento risale alle sue qualità espressive. Possono essere movimenti quieti, distesi, lenti, oppure al contrario movimenti veloci, caotici, forsennati e così via. Infine abbiamo il terzo step proprio della relazione con i soggetti, che è quello dell'assumere o del non assumere evidentemente gli andamenti, gli stati, in questo caso dei punti di percezione del mondo indiretto. Nel caso dei soggetti meccanici, noi assumiamo l'andamento dei suoi spostamenti e dei suoi salti in base ad un processo di sincronia attenzionale. Molti esperimenti, alcuni esperimenti, hanno dimostrato come, nel caso vengono proiettati dei video non montati, dei video girati in maniera casuale, senza un montaggio preciso e senza la manifestazione di alcune intenzionalità specifiche, l'attenzione degli spettatori non si concentra e soprattutto non si sintonizza in maniera regolare. Ogni spettatore guarda un po' sostanzialmente dove vuole. Invece, nel caso di video film montati accuratamente, che quindi manifestano una certa intenzione del soggetto della percezione e dell'ascolto, in questi casi invece gli spettatori reagiscono allo stesso modo. I loro occhi si concentrano sulle stesse zone all'interno dell'immagine. E dunque si può dire che essi adottino, facciano propri i punti di vista sul mondo indiretto. Nel caso dei soggetti umani giocano invece meccanismi di identificazione immediata. Quando noi vediamo un movimento di macchina che rimanda in maniera più o meno esplicita al movimento di un soggetto all'interno del mondo indiretto, tendiamo a empatizzare in maniera più immediata con questo movimento. Tendiamo cioè a farlo nostro, a percepirlo, a sentirlo come nostro. Un esperimento recente della cosiddetta scuola neurologica di Parma ha dimostrato come se si mostra ad uno spettatore una medesima scena con la macchina ferma, con uno zoom o un carrello, oppure con una stedicam, cioè un tipo di movimento di macchina molto soggettivo, soltanto nel terzo caso lo spettatore attiva le stesse aree neurali che attiverebbe se si spostasse effettivamente all'interno di un mondo. Dunque c'è una simulazione incorporata molto forte e un fare proprio replicando attraverso i meccanismi neurali i processi e la percezione di uno spostamento, di una deambulazione. Possiamo allora arrivare a qualche punto di riflessione. Come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto, quelli che chiamiamo anche punti di percezione? Quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione? In che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore? Passiamo dunque ad un nuovo tema, però profondamente collegato a quello che abbiamo appena detto, le relazioni con i soggetti del discorso. Anzitutto il soggetto della produzione discorsiva si manifesta, dunque si rende presente, implicitamente attraverso tutti quei movimenti e quelle trasformazioni del flusso audiovisivo. Noi cogliamo la presenza di un soggetto del discorso in quanto soggetto della produzione discorsiva a partire dalle trasformazioni, anche qui più o meno calme, più o meno tumultuose, dei materiali percettivi, dei materiali sensoriali che costituiscono la produzione discorsiva. C'è però anche un modo più esplicito e metaforico che è dato dalle figure di narratori. All'interno, infatti, del mondo indiretto, noi possiamo avere dei personaggi che acquisiscono il ruolo di narratori, che producono discorso, o raccontando una storia oppure mostrando un film o leggendo un libro e così via. Tutte queste figure esplicitano le attività del soggetto della produzione discorsiva. Il soggetto dell'intreccio si manifesta in maniera evidentemente diversa, per quanto connessa, implicitamente attraverso i procedimenti e forme di organizzazione del discorso. Il modo in cui il discorso viene organizzato, in particolare, come sappiamo, l'organizzazione narrativa e dunque la costruzione del plot, manifestano in maniera implicita il soggetto del discorso in quanto soggetto dell'intreccio. Ma esistono anche delle modalità più esplicite. Esplicitamente, infatti, le figure di manipolatori esprimono all'interno del mondo indiretto il soggetto dell'intreccio. I manipolatori sono tutti quei personaggi che tessono delle trame che sono, appunto, occupati a intrecciare dei plot, manipolando quindi gli andamenti delle vicende. Pensiamo, per esempio, alle macchine di Matrix. Infine, un terzo tipo di soggetto del discorso, come sappiamo, è il soggetto del formato. Si manifesta implicitamente attraverso le qualità tecniche e materiali del discorso. Il discorso possiede una serie di elementi di qualità tecniche, per esempio l'uso di certe tecnologie di computer grafica, piuttosto che l'uso nel cinema, invece, classico, di alcune tecnologie legate alla meccanica della macchina e dei suoi spostamenti, per esempio le gru, i dolli, eccetera. Invece, da un punto di vista più esplicito, troviamo tutte quelle figure di costruttori e produttori, come nel caso del cinema nel cinema, che costruiscono materialmente dei discorsi e maneggiano delle tecnologie di tipo comunicativo. La comprensione degli uni e degli altri segue anche, in questo caso, dei percorsi differenti. Nel caso dei soggetti dell'intreccio e del formato, avremmo più la prevalenza della parte, diciamo, razionale, quindi meccanismi di inferenza, teorie della mente, per capire quali tipi di strategie vengono adoperate dal soggetto del discorso per, per esempio, tenere avvinto lo spettatore oppure deviare la sua attenzione o portarlo su false piste interpretative. Invece, nel caso del soggetto della produzione, giocano piuttosto meccanismi di consonanza e di simulazione incorporata. Quando noi percepiamo, sentiamo, avvertiamo nel film una certa tensione, da cosa deriva? Spesso deriva dall'uso di un certo tipo di musica, da un certo tipo di montaggio, da un certo tipo di movimento di macchina, tutta una serie di elementi che ci colpiscono in maniera molto immediata, in maniera molto viscerale. Alcune scene di combattimenti, per esempio, sono spesso riprese con un montaggio convulso, molto veloce, con una serie di effetti ritmici estremamente intensi. Tutto questo provoca un coinvolgimento estremamente forte e, diciamo così, pre-riflessivo da parte dello spettatore, che è appunto legato alle attività del soggetto della produzione. Infine, noi possiamo adottare l'esperienza dei soggetti, possiamo far nostra l'esperienza dei soggetti del discorso. Anche qui cambiano un pochino le modalità di questo far nostro. Da un lato, l'esperienza dei soggetti, dell'intreccio e del formato maturano con noi un rapporto di fiducia. Noi possiamo avere fiducia in un certo autore se acquistiamo un giallo di, poniamo, Agatha Christie, è perché abbiamo fiducia nel fatto che questa autrice metterà in scena dei meccanismi di intreccio e una certa durata, una certa lunghezza del testo, che sono standard rispetto appunto al suo stile, che ci consentono di apprezzare quello che l'autrice ci farà provare. Al contrario, ma in maniera molto complementare, adottare l'esperienza dei soggetti della produzione, passa attraverso dei meccanismi di condivisione immediata. Ci sono degli autori che ci piacciono a pelle e degli autori che non possiamo soffrire. Perché? Perché il modo di costruire il flusso discorsivo è piacevole, agevole in alcuni casi, mentre invece è insopportabile in altri. Per esempio, alcuni spettatori non possono soffrire dei film o delle serie televisive troppo lente, con troppe lungaggini, con troppi tempi morti, mentre altri invece apprezzano molto questo modo di contemplare il mondo mediante lunghi piani o movimenti di macchina prolungati. Dunque, si tratta in questo caso di un meccanismo di condivisione immediata. Parlando di modi canonici in cui certi autori ci piacciono, non ci piacciono, o con cui abbiamo rapporti di fiducia o meno, abbiamo già messo in gioco una questione su cui è opportuno soffermarci, il problema delle configurazioni stilistiche. Le configurazioni stilistiche sono quei sistemi di convenzioni, potremmo dire, recuperando un termine antico della semiotica, quei codici propri di un certo autore, ma anche qualche volta di una certa epoca. Questi codici, queste convenzioni, possono usare qualunque aspetto del discorso, possono riguardare il modo di organizzare il flusso della produzione, possono riguardare i plot, possono riguardare i plot, gli intrecci, possono riguardare i formati. In ogni caso, le diverse configurazioni stilistiche danno luogo ad una attesa da parte dello spettatore, che sa di potersi aspettare un certo tipo di esperienza o un altro tipo di esperienza. In particolare, all'interno del mondo dell'audiovisivo contemporaneo, abbiamo due grandi soluzioni. Da un lato, i soggetti del discorso industriali, cioè legati a delle pratiche standardizzate. Per esempio, il soggetto di una serie televisiva, il soggetto del discorso di una serie televisiva, sarà, diciamo così, portato a rispettare una serie di convenzioni, una serie di canoni propri di quella serie. E noi stessi, come spettatori, saremmo in fondo poco interessati a capire chi è il regista di una puntata di una certa serie televisiva. Magari ci interesserà di più capire chi è invece, diciamo, il responsabile ultimo, il creatore di questa serie, perché, a seconda dei diversi creatori, dei diversi produttori, avremo appunto degli stili differenti. all'opposto del soggetto industriale, abbiamo invece il soggetto del discorso di tipo artistico, i soggetti del discorso artistici. In questo caso, infatti, il set di convenzioni non fa capo ad una serie, ad un insieme di testi ampio, ma ad un insieme di testi più ristretto, proprio di un certo soggetto. In questo caso, diciamo, il brand non è il nome della serie, il brand è il nome dello stesso soggetto che, in qualche modo, ci mette la faccia e che è contraddistinto da alcuni tratti stilistici molto riconoscibili, come per esempio Tarantino. Ma molti autori sono riconoscibili in questo senso. noi parliamo di un cinema alla Fellini, o di un cinema all'Antonioni, o di un cinema alla Rossellini, perché questi autori hanno proposto una serie di marche stilistiche e di configurazioni stilistiche riconoscibili. Però bisogna dire che parliamo anche poi di uno stile neorealistico, o di uno stile del cinema classico, o di uno stile del cinema moderno, per significare che gli autori lavorano sempre all'interno di quadri stilistici più ampi e tipici di una certa epoca. In ogni caso, è importante considerare le configurazioni stilistiche in relazione a quella necessità di riconoscibilità dei prodotti mediali. C'è un altro aspetto importante delle configurazioni stilistiche. Questa riconoscibilità cui esse danno luogo fa sì che intorno alla presenza di configurazioni stilistiche si creino fenomeni propri del fandom e quindi si creino relazioni tra partners nel mondo diretto. Le configurazioni stilistiche e i sistemi di attesa e di apprezzamento che si creano costruiscono la possibilità di incontro tra soggetti del mondo diretto che apprezzano uno stesso autore, che apprezzano una stessa serie televisiva, che apprezzano al limite anche uno stesso creatore di serie televisive. Dunque, nascono fenomeni di fandom. Noi abbiamo tenuto un po' da parte la questione dei partners, cioè delle relazioni con gli altri soggetti del mondo diretto con i quali lo spettatore può trovarsi a relazionarsi. Qui però incontriamo un rapporto, un link, tra i soggetti del discorso e le loro configurazioni stilistiche e la possibilità di costruzione di comunità di gusto, di comunità di fandom e dunque la possibilità che i discorsi finzionali incidano nel mondo reale costruendo appunto gruppi sociali che si riconoscono nel comune apprezzamento ed eventualmente nel parlare, nel dibattere intorno a serie, a prodotti, a film, ad autori. Introduciamo allora qualche spunto di riflessione. Come si manifestano i tre soggetti del discorso? Come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso? E in che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto? Bene, veniamo alla pratica con un esempio di analisi, anch'esso tratto dal doppio episodio che Quentin Tarantino gira per la serie televisiva CSI Las Vegas nel 2005 dal titolo Grave Danger. Vediamo un clip e faremo poi qualche considerazione. This is it! I found it! It's here! I found it! It's here! It's here! It's here! It's here! Ingo! Nicky! No! It's a damn shame they didn't get to him sooner. I sure will miss him. You know, David, I've seen fire ant bites in my time, but never anything like this. Do you think he suffered? Do I think he suffered? Yes, definitely. All right. On three. Uno, dos, tres! It was Christmas. All right. Would you care to do the Y incision? Well, why not? Mind your hands and feet. You won't be needing this anymore. One. 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 Two. One. 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 della bara in cui Nick è nascosto e poi addirittura all'interno del suo corpo dato dai processi di computer grafica. Anche i soggetti del discorso in questa parte si manifestano come soggetto della produzione. Il soggetto della produzione in questo caso molto partecipe sia per quel gioco di movimento di macchina scritturale che abbiamo già visto, ma anche per tutto ciò che ci sta intorno per esempio lo sciabolare delle luci e naturalmente la musica molto ritmata contribuisce a questo effetto immediato di tensione, di ansia. Poi un soggetto dell'intreccio attento a disciplinare il passaggio dell'informazione narrativa e infine un soggetto del formato che qui emerge soprattutto grazie alla performance della computer grafica, dunque ad una esibizione tecnologica. Nella seconda parte della sequenza abbiamo un'introduzione di un segmento molto strano, soprattutto molto anomalo rispetto alla serie CSI. Nick vede in prima persona con questi appunto giochi di soggettiva e interpellazione, vede la sua morte, vede la sua autopsia. Si tratta di un incubo, come sapremo e come ci verrà rivelato alla conclusione di questa sequenza, però è comunque una sottosequenza che ci colpisce in modo particolare perché non siamo preparati a vedere qualche cosa del genere all'interno di una normale puntata di CSI. Cosa avviene? Come possiamo dare senso a tutto ciò? Possiamo dare senso pensando alla interazione e potremmo dire al passaggio di mano tra due tipi di soggetti del discorso che fanno capo a delle configurazioni stilistiche differenti. Da un lato c'è il soggetto industriale che è il regista di una normale puntata di CSI, se vogliamo è Tarantino che si adegua agli stilemi, cioè ai codici stilistici, alle convenzioni stilistiche della serie CSI e dall'altra parte invece c'è l'emergenza di un soggetto artistico, Tarantino in quanto autore, quindi libero di introdurre delle marche stilistiche nuove e intento anche un pochino a citare se stesso, a citare il suo stile, uno stile che a volte intenzionalmente va verso lo splatter, il grottesco, l'uso del bianco e nero, quindi anche dei salti stilistici espliciti e così via. A conclusione di di questa lezione e anche di questo ciclo di lezione dedicato all'esplorazione dell'esperienza mediale audiovisiva di tipo finzionale vorrei fare un brevissimo riassunto di come le diverse aree dell'esperienza mediale si raccordano all'interno di un'esperienza di tipo finzionale. Notiamo anzitutto in alto l'estrema importanza delle configurazioni esistenziali e in basso il ruolo delle configurazioni sensoriali partiamo dall'alto le configurazioni esistenziali richiamano costantemente la distinzione tra mondo indiretto, discorso, mondo diretto e dunque permettono sia una organizzazione narrativa del mondo indiretto sia una relazione dello spettatore con i punti di percezione del mondo indiretto che assicurano il suo accesso all'interno del mondo indiretto e sia anche una relazione con i soggetti del discorso cioè con quelli che abbiamo chiamato autori la relazione con i punti di percezione del mondo indiretto è collegata anche alle relazioni con i personaggi del mondo indiretto quindi con i soggetti presenti esplicitamente nel mondo indiretto la relazione con i soggetti del discorso con gli autori poi si collega al problema delle relazioni con i partners del mondo diretto con i fandom o della serie CSI oppure con i fan del cinema e delle opere di Tarantino infine le configurazioni sensoriali si sono rivelate fondamentali sia per indicare per accompagnare per guidare l'organizzazione narrativa del mondo indiretto sia per determinare le relazioni con i soggetti del discorso aiutando in maniera determinante alla costituzione delle configurazioni e delle convenzioni stilistiche possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza come si configura l'esperienza mediale narrativa e finzionale di Grave Danger nel suo complesso bene possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione come si definiscono i soggetti della costituzione percettiva del mondo indiretto o punti di percezione quali sono le quattro possibilità di manifestazione dei punti di percezione in che modo i punti di percezione possono essere incorporati dallo spettatore come si manifestano i tre soggetti del discorso come avviene la comprensione dell'esperienza dei soggetti del discorso in che modo le configurazioni stilistiche producono conseguenze nel mondo diretto quali tipi di punti di percezione sono presenti nella sequenza quali configurazioni stilistiche emergono nella sequenza come si configura l'esperienza mediale narrativa e finzionale di Grave Danger nel suo complesso vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali per approfondire i contenuti che abbiamo trattato sono reperibili sul sito del corso grazie grazie a tutti grazie a tutti